Buongiorno a tutti, per un annuncio importante lascio la parola al professor Alchemist, grazie. Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, guten Tag. Sono il professor Alchemist, questa è Sky Lady, mi accompagna con Ali a vapore. Siamo contenti di essere qui dopo un anno che il gruppo Steampunk Nord-Est ha visto le sue origini proprio qui, su questo palco, un anno fa. Devo annunciare che ci sarà un pomeriggio tutto dedicato ai gruppi Steampunk e agli appassionati e ai curiosi di questa che è la novità degli ultimi anni. Abbiamo una mostra fotografica là in fondo con delle immagini, degli eventi che sono stati fatti in questo anno dal gruppo Steampunk Nord-Est che è ormai, credo, il più grande del Nord-Est e forse anche di tutta Italia. Quindi vi invito ad ammirare queste immagini. Poi ci sarà una gara Steampunk su questo palco aperta a chi vuole e si devono iscrivere qui al banco, chi vuole partecipare. Ci saranno premi e coppe in metallo, in vere coppe per i costumi migliori. E poi ci sarà verso le quattro una sfilata di tutti quelli che sono in costume Steampunk su questo palco per parlare un attimo dello Steampunk e farci vedere. Quindi vi ringrazio a tutti da anche Film Arts. Sky Lady vuoi dire qualcosa? No, grazie. Gli hai detto tutto tu. Non mi hai lasciato neanche una parola da dire, niente. Va bene. Allora grazie a tutti. Vi aspettiamo qua tra poco.